Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli, spero che tutti voi sosteniate questo video con ammirazione, affinché il sistema YouTube possa proporlo a quanti più italiani possibile. Inoltre, condividi questo video con i tuoi amici che amano l'inverno. Stanno aspettando l'inizio delle nevicate, quindi gli aggiornamenti sono ancora confermati dal modello americano, che indica l'ingresso di una massa d'aria molto fredda sull'Italia, a partire da sabato 25 novembre 2023. Questa enorme massa è carica di aria polare fredda. Porterà con sé abbondanti nevicate a quote molto basse. Questo è solo nell'Italia centrale e meridionale e in aree separate delle Alpi, al confine con Francia, Svizzera e Austria. Sabato 25 novembre si sono verificate quindi nevicate abbondanti e abbondanti a quote molto basse in entrambi. Marche Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia. La neve continuerà a cadere fino a mezzogiorno di domenica 26 novembre. La neve sarà più forte soprattutto al centro-sud e nelle zone interne al cerchio rosso, con forte ondata di freddo e gelate su tutte le regioni da nord a sud. Restate sintonizzati per maggiori dettagli più avanti e nel prossimo video.